per l'innovazione in questo paese, il presidente di Telecom, anzi di Team, Giuseppe Recchi. Giuseppe, io faccio fatica ancora a dire Team, lo sai, mi devo abituare. Sì, ci vedi a Telecom. Eh sì, ci vedi a Team. Bentornato. Grazie. Mi ricordo la prima volta che sei venuto alla Maker Faire. Cos'era, due anni fa? Due anni fa. Due anni fa, una giornata eccezionale, rimasi colpitissimo da quello che avevate fatto e oggi ancora di più da dove siete arrivati, perché c'eravamo detti ai tempi, quindi Telecom ha questa percezione di essere l'azienda che fa l'infrastruttura della digitalizzazione del paese, della comunicazione, ma l'ambizione invece è di essere veramente la casa della tecnologia italiana, per cui chi se non noi dobbiamo diventare gli implementatori anche del Maker, anche di tutto quello che crea sviluppo e opportunità. Senti, a parte la banda larga di cui magari ti chiedo un aggiornamento subito dopo, perché per un'azienda come Team è importante aprirsi ai Maker? Cioè, perché l'open innovation è una strategia vincente? Perché le telco tradizionalmente sono dei costruttori di autostrade, ma oggi se non si trasformano sono un business model che sta sparendo. Questo, come al solito, è dovuto alla pressione della concorrenza. La nostra concorrenza più forte non è quella all'interno dell'industria, ma quella che viene dal mondo dei WhatsApp, delle Apple, e dove altro questo mondo arriverà, che è proprio il mondo di cui voi fate parte. Per cui noi dobbiamo non solo raccogliere questi input per capire come trasformarci, ma dobbiamo addirittura farci diventare innovatori noi stessi, perché sempre di più quello che dobbiamo offrire ai nostri clienti non è solo connessione, ma è servizi, contenuto, diventare un'unica piattaforma attraverso la quale si accede al mondo, è una vita diversa. Senti, avete un padiglione pazzesco, l'hai già visto? Non ancora, perché sono entrati a retro, ma lo vedrò tra poco. Senti, non posso non chiederti, sono una tua ossessione da anni, ma la banda larga, il bando è partito prima dell'estate, il primo dei tre. C'è un vostro ricorso, ma quando è che metteremo il primo metro di fibra in quel modo lì? Ma no, non la vostra. Non la vostra, è una cosa un po' complicata, ma in realtà quello che nessuno sa, che sono quattro anni che noi siamo il più grosso investitore in Italia, addirittura attraverso tutti i settori, esclusi poi le sovvenzioni pubbliche, in infrastruttura. Si dice che in Italia la banda larga non c'è, allora volevo sfatare un mito, perché intanto dividiamo mobile fisso. Nel mobile noi siamo il paese tra i più avanzati in Europa, siamo secondi solo all'Inghilterra, abbiamo una copertura che è superiore al 95% del 4G, stiamo già ragionando sul 5G, Telecom fa innovazione, oggi la velocità di un 4G, diciamo, veloce è 150 mega, per cui figuriamoci dove arriveremo. Nel fisso siamo indietro, perché sono state fatte scelte politiche, non c'era il piano banda ultralarga, non c'era il piano di adesso che l'industria 4.0, fatto da Calani, che è un piano che va a sostenere soprattutto la domanda, perché aiuta le imprese a investire. Su questo siamo il paese che ha investito di più, e soprattutto che cresce più velocemente. Due dati veloci, l'anno scorso stavamo a circa il 40% di copertura della popolazione, oggi al 55%, l'anno prossimo saremmo quasi all'80%, nel 2018 quasi al 90%, per cui dopo domani siamo arrivati. Noi torniamo in pari con il resto del mondo nel 2018. Con il resto del mondo saremo in pari nel 2018, e soprattutto poi pensiamo di superarlo, perché l'evoluzione nella tecnologia della rete non si ferma. Oggi già vendiamo il 1000 mega, e stiamo dando in oltre 50 città, abbiamo questo piano di portare 500 mega più. Bene, Giuseppe, allora invitandovi a visitare lo stand di team, la Maker Faire,